Onore e merito alle vostre italiane per aver voluto con questo francobollo sottolineare la ripartenza, la rinascita, sia dal punto di vista iconografico con un'alba che sorge sulla nostra piazza più simbolica, sia perché di fatto in questo momento siamo in piena ripartenza. L'Italia riparte, Napoli ti aspetta. Ecco il francobollo speciale e l'annullo postale presentato stamattina nello spazio Filatelia di Poste Italiane. Fa parte della serie tematica Il patrimonio naturale e paesaggistico, serie turistica in cui sono presenti anche Roma, Milano, Firenze, Venezia e Palermo per una tiratura di 2 milioni e 70 mila francobolli del valore di 1,10 euro. Quello di Napoli è un francobollo che esprime proprio la ripartenza attraverso il richiamo. L'Italia riparte e vuole attrarre i turisti, le persone, le bellezze dell'Italia. Napoli in particolare con questa bellissima veduta di piazza Plebiscito, un po' anomala rispetto a quella più tradizionale della basilica di San Francesco di Paola ed è un bellissimo francobollo che viene messo in 200 mila esemplari e quindi avrà anche un valore numismatico e filatelico particolarmente rilevante. Il francobollo di Napoli ritrae piazza Plebiscito all'alba ed è stato realizzato con la tecnica dell'acquarello sul bozzetto tratto da uno scatto di velia cammarano dell'ufficio stampa del comune di Napoli ed è stato stampato dal poligrafico e zecca dello Stato. È molto bella questa iniziativa che lega Napoli con un francobollo al mondo senza confini. Le poste uniscono le persone in tutte le parti del mondo e Napoli è una città attrattiva a livello mondiale e lo è stato sempre di più in questi anni. Noi vogliamo ripartire esattamente da lì. Cultura, turismo, bellezza, rinascita, solidarietà e vicinanza a chi sta soffrendo. Grazie.